ciao amici benvenuti in una nuova puntata di quaderno divino nuova puntata a quanto pare non tanto possibile perché antonio doveva esserci qui però immagino che qualcosa lì è successo quindi c'è un uomo di poca fede ma buongiorno a tutti mi devi avvisare ciao il lavoro è prima sicuro che facevi qualcosa tra lavorativa e che io ti aspettavo in cantina d'avvinamento e te mi soffermi con questo scenario oggi doveva cominciare il velo per quello ti ho pensato che era una buona opportunità invece invece ci sono i telefoni ok la parola è tutta tua cosa cosa di bello assaggiere bel tempo bel tempo fresco dobbiamo bere un vino fresco siamo in toscana italia toscana per la precisione al sud della toscana in maremma scansano provincia di grosseto la terra del morellino ma noi oggi non assaggieremo un morellino la prossima volta il vino che andiamo a degustare oggi è un vermentino doc siamo come dicevo prima a scansano l'azienda è provveditore di bargagli della famiglia bargagli e questo vino si chiama il bargaglino quindi è un po il piccolino di famiglia questa è un'azienda che ho conosciuto più o meno tre anni fa è stata una delle prime aziende a entrare in catalogo di abbinamento persone simpaticissime a parte il vino hanno anche una produzione di salumi molto buoni e prodotti da forno i classici cantuccini gli anicini insomma a tutto tondo se andiamo a farci una gita diciamo che possiamo uscire il capo stipide alessandro bargagli adesso comunque in azienda c'è anche cristina e sua figlia simpaticissima e appunto questo è il vino bianco dell'azienda hanno altri dini che sono tre morellini e poi abbiamo anche un appassito un appassito di tuffo allora interessante mai sentito incominciamo a mescere tutto tuo devi recuperare il tempo perso abbiamo fatto una corsa abbiamo fatto ma siamo arrivati delicato anche nelle scende non scende nel bicchiere allora innanzitutto abbiamo detto che questo è un vermentino doc ma sono presenti anche altre uve altre uve a bacca bianca a seconda delle annate inseriscono possono inserire dello chardonnay del brocchetto dell'insonica consentito tutto consentito da disciplinare guardiamo subito il bicchiere qua siamo col classico giallo paglierino abbiamo siamo è un 2014 l'ho dimenticato è un classico giallo paglierino possiamo notarlo subito però c'è un particolare che poi presumo ci verrà confermato anche quando l'assaggeremo tu hai notato che nel bicchiere ci sono c'è un piccolo perlage piccolo sottile 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 e si è strano per un vermentino ma ne parleremo mentre andremo avanti nell'assaggio quindi giallo paglierino al naso il profumo gradevole direi invitante fresco quello che predomina in questo vino è la freschezza sì frutta fresca infatti frutta fresca assolutamente e c'è anche una discreta nota di mineralità a mio parere giustissima sì d'accordo viene fuori abbastanza prepotentemente allora assaggiamo e abbiamo la conferma di quello che avevamo che ci avevano detto gli occhi questo vino e come direbbero i francesi leggermente petit a quindi a questa effervescenza naturale che comunque gli da questa nota ancora più fresca avrei notato sicuramente che al palato emerge subito questa la mineralità si va addirittura a coprire il tono dell'acidità si dice subito la mineralità è una ottima sapidità anche sicuramente siamo comunque delle vicinanze del mare siamo in una zona molto vicino al mare quindi il territorio da sicuramente la sua impronta gradevolissimo secco secco deciso finisce finisce proprio bruscamente ma la sapidità è lunghezza quasi incredibile vino da bere fresco vino da bere fresco vino da bere fresco anche nel senso non è un vino da lunga conservazione questo è un 2014 lo andremo a consumare nel corso del 2016 2015 chiaramente era più che più che più che buono direi che non è consigliabile portarlo oltre fino al 2017 anche se comunque sicuramente non va male mi vengono idee sull'abbinamento ma preferirei sentire il tuo parere chiaramente come aperitivo non stona in qualsiasi caso ragioniamo sulla zona lo possiamo sicuramente accostare a dei piatti a base di pesce però non piatti troppo impegnativi quindi si considerando che non è un vino molto persistente esatto cioè con la sua con la sua stabilità lungo ma non ha non ha una personalità ammazza cibo scusami così quindi con dei piatti di pesce a quanto delicati potrebbe andare bene con dei crostacei anche con dei crostacei senza l'uso però di salsa eccessivamente se esatto esatto anche se questa leggera effervescenza comunque una piccola pulitina un po di pulizia la fa in qualsiasi caso quindi aperitivo piatti a base di pesce anche carni bianche non esagerate lavorate quindi forse forse anche qualche formaggio non stagionato esatto non roba stagionata io l'ho assaggiato con i loro chiaramente con i naturali con i loro salumi è stato un incontro questa gente gente che come piace a me no sono molto schietti quindi tu arrivi lì se loro hanno tempo ti dedicano tutto il tempo che hanno se non hanno tempo dicono ripassa ci vediamo un'altra volta quel giorno lì quando siamo andati ero con ero con un amico e il signor bargagli era abbastanza di fretta poi quando ha capito che potevamo essere potenzialmente dei buoni clienti non detto subito quello che facevo ci ha fatto sedere ci ha incominciato a tagliare salami affettati e tutto e di là ha dato questo rapporto che veramente adesso io quando ho bisogno di qualche qualche fornitura da loro è fantastico è questo il mondo del vino e dei produttori ottimi prodotti generosità nel condividere le conoscenze e invitarti a degustare anche sui prodotti a livello di cibo quindi fantastico e come cosa possiamo dire sul prezzo di questo video di prezzo questo un vino che resta nel catalogo di avvinamento intorno ai 9 euro intorno ai 9 siamo su quella fascia di prezzo ottimo quindi per chi non conosca il vitigno e neanche il vino in particolare troverà una bellissima sorpresa in quanto soprattutto quelli che gradiscono i vini sapi di esaltare quella caratteristica il vermentino è uno dei vitigni più presenti sulla fascia tirrenica quindi noi partiamo dalla rigura scendiamo per la costa tirrenica arriviamo poi anche in sarvenia ma ogni zona in ogni zona ha una sua propria personalità questo è un vermentino completamente differente da tutti gli altri vermentini che io ho assaggiato che anche tu avrai assaggiato anche perché appunto come ho detto prima ci sono degli inserti di altre uve fantastico antonio se non fossi perché sei arrivato in ritardo sarebbe stato perfetto però ci siamo perdonati tante cose che non c'è problema saluti amici alla prossima a 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